Ciao ragazzi e ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video! Sono qua e la mia stanza cosmeticosa, yeee! Nuova ricettina, yeee yeee yeee, triplo yeee, Nancy mi fa un baffo della serie! Avete tanto tanto richiesto di fare qualche nuova ricettina per il viso, per i capelli dopo l'estate e già qualcuna ve l'aveva fatta, per il viso ancora no. Quindi vi voglio fare una bella maschera per il viso, però ho pensato perché non provare a riprodurre in casa la famosissima maschera in coppetta? Ecco qua, le coppette ce le abbiamo! Ci manca solo la maschera! Questa maschera in coppetta è una fidata, sta andando tantissimo tra le maschere queste qua giapponesi ma comunque in America e sono quelle là praticamente pronte nella coppetta che tu ci aggiungi l'acqua insomma, non so, comunque se lo facciamo secondo me è meglio Ho preso queste qua così per fare scenografiche, adesso devo scegliere la blu, la rosa o la verde quale coppetta è sceso troppo carina, queste qua un po' dei gelati io ne posso preparare anche tre, no? Perché questa qua è la cosa bella, ne potete preparare anche tanta e poi al momento l'andate a utilizzare, questa è la cosa bella non tipo la mettete in un barattolino, a parte la coppetta che muo' è figa come cosa poi la mettete in un barattolino chiuso e al momento praticamente, essendo che in polvere al momento ci aggiungete l'acqua e avete fatto la vostra maschera al momento allora prendo la rosa ovviamente rosa vince sempre ci vado a mettere io il paolino praticamente l'argilla bianca ho questa bustona di argilla bianca e della farmacia Vernile e non finisce mai, è in me tantissima comunque l'argilla bianca voi la trovate dappertutto anche tipo in erboristeria oppure in farmacia un cucchiaio di argilla e poi serve qualcosa che lo faccia gelificare, inondurire esperimento, sperimentiamo insieme che mi diverso tantissimo l'avevo comprata in un negozio asiatico è la gomma agar agar in polvere praticamente la vendono tipo nei negozi dove non so dove comprate l'olio di cocco i noodles, quelle robe là insomma negozio asiatico ma si vende anche nei negozi per dolci perché questa qua la gomma agar agar serve per fare dolci, chi fa le torte questa roba qua voi siete brave lo sapete che quindi è una cosa del tutto naturale vegana tutto come vi piace a voi ci vado a mettere quindi un cucchiaino di questa polverina ok vado a mescolare e già ho ottenuto la mia polvere per un ingrediente molto molto funzionale che è il tea tree oil già il caolino è ottimo per i brufoli punti neri un po' ridilatati infatti questa maschera è miracolosa veramente per i brufoli perché non c'è nulla meglio dell'argilla io in questo caso uso l'argilla bianca che è un po' più delicata perché comunque non ho tantissimi brufoli e perfezioni e trovo che sia più adatta a tutti i tipi di pelle invece se avete problema proprio di pelle grassa un tab brufoli vi consiglio di utilizzare l'argilla verde che io ce l'ho però vi ripeto non avendo queste problematiche preferisco mi trovo meglio con il caolino tea tree oil ancora di più vogliamo sconfiggerli questi dannati brufoli tea tree oil ne bastano veramente pochissime gocce anche questo qua l'olio essenziale di Malaleuca tea tree oil un profumo che io adoro non so alcune persone lo odiano invece io talmente che non ho utilizzato mi sono appassionata adesso gli voglio bene mi piace tipo Dior è diventato per me questo nei siti online tipo la farmacia vernile oppure in erboristeria a volte anche tipo a sui mercato le mio profumerie insomma si trovano ne bastano veramente pochissime gocce ho messe 8 gocce poco poco andiamo a mescolare vedete finché voi non raggiungete acqua questa polverina voi la potete tranquillamente conservare cioè la mettete in un barattolino non la conservate anche per mesi anni tipo mi sposate se ancora la a questo punto ragazzi ci dobbiamo aggiungere l'acqua ma io ho pensato dato che sono molto intelligente mi stavo sorseggiando la mia tazza di tè verde come faccio praticamente quasi ogni giorno perché lo adoro il tè verde è purificante e antiossidante quindi ottimo per la pelle va benissimo anche per i punti neri i pori dilatati i brufoli quindi ho detto ci metto invece dell'acqua semplice il tè verde così ancora più una bomba questa maschera è viva poi potete mettere anche l'acqua di sotto la fontana oppure ad esempio una camomilla se vi piace bere la camomilla anche schiarente quella là oppure un tonico un idolato un'acqua di rosa insomma quello che volete alla volta accucchiaiate finché non diventa la mia consistenza che mi piace praticamente queste super figate perché dall'america ogni tanto ci portano queste figate ma praticamente è una maschera semplice cioè non ha nulla di particolare anzi io anni fa avevo fatto il video proprio della mia carita peperita maschera viso che ormai tutte conoscete e ve la fate con grande soddisfazione e avevo fatto proprio la versione in polvere e avevo detto ragazzi così la potete conservare a lungo quindi siamo venuti noi prima dell'america con le maschere in coppetta però insomma la cosa figa è questa qua cioè praticamente prima di aggiungere il tè verde l'acqua quel che si avevate la vostra coppetta così si vendono in america in giappone queste maschere sono delle coppette in polvere tu la apri ci aggiungi l'acqua ed è pronta voi l'avete fatta in casa yeee queste maschere però devono essere un po' più dure hanno una consistenza un po' più densa quindi direi che questa è la consistenza giusta sono pronta per l'applicata sul mio viso e apriamo la maschera ovviamente ragazzi qualsiasi maschera voi applicate sul viso se fate prima dei vapore quindi come ho fatto vedere a volte nei miei video di pulizia del viso quindi qui là con la pentola così ovviamente i poli sono aperti e la maschera è più efficace a proposito fatemi sapere se vorreste un video aggiornato della mia pulizia viso completa quella là che ti fai tipo la domenica quando piove non vuoi vedere nessuno ti vuoi dedicare solo a se ti chiudi dentro e fai tutte quelle cose belle poi alla fine la sera ti è passata la depressione e sei bellissima ti è diventata la pelle da favola fatemi sapere tanti pollici in su se volete un nuovo video della mia pulizia del viso del momento mi piace tantissimo farmi la pulizia del viso in casa adoro ed è veramente 100.000 miliardi di volte migliore che dall'estetista poi a costo zero quindi allora ragazze io tra un po' non potrò parlare più tipo una paresi alla faccia però davvero mi sento tipo tutta intostata intostata mi sta indurendo tantissimo però ancora non proprio aspettiamo un altro po' mamma mia scusa ma cosa hai in faccia che c'è amore che c'è cosa hai in faccia io l'amo no no mi fai troppa paura che c'è mammina che c'è mi fai troppa paura questo non si può mangiare a mamma non è commestibile sono bianca come te guarda siamo identiche con la maschera siamo uguali a mamma tua che c'è bella ok ragazzi la maschera si è tutta indurita quindi possiamo andare a rimuoverla vedete che diciamo non è venuta proprio gommosa questo sperimento è un po' fallito però comunque si sgretola tipo così è sgretolosa non gommosa ma impressione però la mella è tutta è liscissima guardate cioè basta passarci la mano ecco ecco si alza pure alcuni punti si alza guardate dov'è più doppia fate la bella doppia ecco qua se la fate bella doppia si stacca che è una meraviglia ok ragazzi appena sciacquato ma ha lasciato una pelle fantastica veramente risultato incredibile ragazzi pelle liscia come il culetto di un bambino morbida punti neri spariti vabbè brufoli non avevo tantissime però punti neri spariti poi dilatati anche bella yeeey sono felicissima del risultato ragazze spero tanto che piaccia anche a voi veramente come avere una pelle bellissima è bello cioè una nuova pelle in un giorno in un giorno cambia la vostra pelle comunque è fantastica questa maschera lasciatemi un commentino e fatemi sapere come vi trovate se vi piacciono i miei video di cosmetici naturali lasciatemi tanti like supportate le mie ricettine naturali con tanti like tanti pollici in su sapete che se raggiungo tanti like vi faccio subito un altro video magari se volete avete delle richieste particolari lasciateli nei commenti iscrivetevi a questo canale ciao